Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Ieri abbiamo parlato di Roma, oggi parliamo ancora di Roma, però osservandola dal punto di vista opposto, cioè da chi si opponeva ferocemente a una feroce antica Roma di spirito imperiale e anche imperialista. E oggi la donna di cui vi parlo, la cui vita è la nostra motivazione, uno degli esempi che proponiamo come stimolo alla riflessione su chi ha dato la sua vita per le sue idee, per ciò in cui credeva e quindi come stimolo a una vita che corrisponda fino in fondo alle idee, ai valori, ai principi in cui crediamo e agli obiettivi che vogliamo realizzare, testimoniando ancora di più quanto la caparbia determinazione sia la facoltà conscia più importante nella realizzazione quotidiana dei nostri obiettivi e della nostra evoluzione. E questa donna è davvero terribile. Si chiama Budicca, è una regina celtica vissuta nel primo secolo dopo Cristo, che ha una storia più feroce che avventurosa. Era proprio descritta così da lo storico Cassio Dione. Era una donna molto alta e dall'aspetto terrificante. Aveva gli occhi feroci e la voce aspra. Le chiome fulve le ricadevano in gran massa sui fianchi. Quanto all'abbigliamento indossava invariabilmente una collana d'oro e una tunica variopinta. Il tutto era ricoperto da uno spesso mantello fermato da una spilla. Mentre parlava teneva stretta una lancia che contribuiva a suscitare terrore in chiunque la guardasse. Vi leggo questo articolo molto ben fatto di Matteo Ruboli tratto dal suo Vanilla Magazine che si trova all'indirizzo www.vanillamagazine.it. È la storia appunto di Budicca, la regina celtica che sfidò l'impero romano. Vi leggo dall'articolo di Matteo Ruboli. La storia di Budicca inizia nel 33 dopo Cristo, quando ancora l'Inghiterra era un conglomerato di tribù celtiche indipendenti e finisce nel 61 dopo Cristo, anno della sua morte. Durante la sua breve vita vide la fine del mondo che aveva conosciuto e l'inizio del dominio dell'impero romano in Inghiterra, che durerà da circa il 43 al 410 dopo Cristo. La regina Budicca nacque in una famiglia nobile nel territorio controllato dalla tribù degli Iceni, situato nell'odierna Norfolk, poco a nord di Londra, e apprese cultura e tradizioni celtiche da una seconda famiglia adottiva, presso la quale visse sino all'età di 17 anni. Poco dopo l'adolescenza sposò il re della tribù Prasutago, con cui ebbe due figlie. Quest'ultimo fu forse messo sul trono degli Iceni dai romani stessi, in qualità di re-cliente di Roma, dopo una prima ribellione della tribù del 47 dopo Cristo. Secondo la tradizione dei territori occupati dai romani, Prasutago avrebbe dovuto nominare erede dei suoi possedimenti l'imperatore romano stesso in quell'anno Nerone, completando la pacifica transizione della tribù sotto il dominio di Roma. Prasutago però non volle lasciare il dominio a Nerone e decise di nominare erede sia Nerone sia Budicca e le due figlie. I romani naturalmente non accettarono la condizione di doppia eredità e si impossessarono del territorio degli Iceni, costringendo alla pubblica umiliazione budicca, che venne denudata e frustata sulla pubblica piazza. E le due figlie vennero violentate. I romani fecero il fatale errore di non uccidere Budicca, che scatenò tutta la sua rabbia contro i legionari impegnati nella Britannia. La regina chiamò a raccolta il suo popolo, istigandolo alla rivolta. Mentre i romani erano impegnati a combattere i druidi nella parte ovest dell'Inghilterra e nel galles del nord, Budicca riuscì a chiamare a raccolta gli Iceni, i Trinovanti, i Cornovii, i Durotrigi e altre tribù, tutte animate dall'odio verso i conquistatori. Budicca fu scelta come guida per respingere il nemico nell'Europa continentale e liberare l'Inghilterra dal gioco romano, che imponeva pesanti tasse, la soppressione delle pratiche religiose celtiche e il controllo di molti aspetti della vita delle antiche tribù dell'isola. Tacito, senatore e storico contemporaneo degli avvenimenti, visse infatti tra il 56 d.C. e il 117 d.C., descrive Budicca come aggressiva nell'esortare i soldati all'attacco dal suo carro, regina destituita e ribelle al dominio di Roma. Budicca si presentava non come una nobile in cerca delle sue ricchezze perdute, ma come una donna che cercava vendetta per l'umiliazione subita da lei e dalle figlie all'invasore romano, sospinta dal volere degli dèi. Dai documenti storici si evince che Budicca riuscì a mettere insieme un esercito impressionante per l'epoca. Centomila britanni delle più disparate tribù inglesi pronti a versare il sangue per cacciare l'invasore romano. Il primo obiettivo dell'esercito fu Camulodunum, Colchester, allora capitale della Britannia, dove si trovava un tempio dell'imperatore Claudio e che costituiva il ritiro di numerosi soldati. Budicca attaccò la città e la rase al suolo, non facendo prigionieri e distruggendo ogni simbolo e opera d'arte romana. Gaio Svetonio Paolino, console che sino a pochissimo tempo prima era impegnato contro i druidi, raggiunse allora Londinium, Londra, che costituiva l'obiettivo dei britanni. Qui i romani fecero un prudente passo indietro, abbandonando l'insediamento che venne messo a ferro e fuoco dai ribelli, che uccisero i pochi che non avevano abbandonato la città. Il terzo obiettivo della rivolta guidata dall'implacabile regina Budicca fu Verulamium, oggi St Albans, che all'epoca era un insediamento di notevoli dimensioni. Anche questa città cadde sotto i colpi dei britanni ed il numero totale delle vittime dei tre attacchi fu stimato fra le 70 e le 80 mila persone. Nerone pensò seriamente di ritirare l'esercito dalla Britannia, con le tre città più grandi rase al suolo e una furia devastante che sembrava davvero guidata dal volere degli dèi. Nerone aveva sottostimato il pregevole lavoro di Gaio Svetonio Paolino. Nonostante il console fosse stato costretto alla ritirata in più di una occasione, la tattica della terra bruciata aveva indebolito enormemente il contingente britannico. Budicca e il suo popolo combatterono in un'altra battaglia, ma questa volta, nonostante il soverchiante numero di britanni, la vittoria arrise a Roma. Nello scontro non conosciamo la posizione precisa, ma avvenne nelle West Midlands su una via conosciuta oggi come Watling Street. I britanni si trovarono costretti ad attaccare l'esercito romano in un terreno in salita, condizione estremamente sfavorevole che avvantaggiò l'esercito di Gaio Svetonio Paolino. I soldati ribelli, in condizioni fisiche precarie e affamati dalla terra bruciata, vennero spazzati via dalla disciplina e dalla tattica di guerra romana. I soldati britanni, decine di migliaia, quando fu chiaro che lo scontro era perso, tentarono di ritirarsi, ma inutilmente. Certi della vittoria avevano chiamato le famiglie e le tribù per intero a fare da spettatori alla battaglia e i carri e le persone erano ammassate dalla parte delle tribù celtiche. I romani massacrarono circa 80.000 britanni. In quei giorni i romani sottomisero definitivamente tutti i restanti abitanti della Britannia meridionale, iniziando un incontrastato dominio della zona che durò per oltre tre secoli, spostando la capitale da Camulodunum a Lodinium, a tutt'oggi principale città della Gran Bretagna. Gaio Svetonio Paolino, in seguito protagonista di una repressione sanguinaria contro i popoli conquistati, fu sollevato dall'incarico da Nerone, che al suo posto mandò Publio Petronio Turpiliano, che completò in modo decisamente più pacifico l'annessione all'impero romano della Britannia. E Budicca, quale fu il suo destino? Tacito racconta che la regina si uccise per non finire preda dei vendicativi romani, avvelenandosi insieme alle figlie. Cassio Dione scrive invece che fuggì e si ammalò, morendo per cause naturali, sepolta in un sontuoso sepolcro. In ogni caso Budicca e le figlie non subirono certamente le ritorsioni dei romani. I corpi delle tre donne furono sepolti o a Stonehenge, arcaico sito celtico, oppure nel Norfolk, terra degli Iceni, o ancora a nord di Londra. Probabilmente non si saprà mai, con assoluta certezza il destino della regina celtica che sfidò Roma. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti.